per andare a inserire un profilo un nuovo profilo all'interno del mio database posso andare a lavorare dagli strumenti di gestione posso andare a caricare le tabelle quindi editor tabella in alto a sinistra carica i database apre i database installati lui li caricherà tutti e in questo caso posso utilizzare i filtri qui in basso allora generalmente i filtri possono avere per quanto riguarda l'inserimento dei profili possono avere tre prefissi diciamo allora su tutti i miei database sono contenuti su Astor Profiles vedete che ci sono i profili compound quindi i profili combinati non riguardano appunto il nostro caso EXT sono i profili standard quindi i profili che hanno una sezione standard sezione AI tubi tondi tubi rettangolari hanno tutti hanno un database hanno forme note e quindi hanno un prefisso EXT INT quindi INTERNAL sono delle sezioni speciali create o da Gritec o da Autodesk e inserite all'interno del database standard di Advanced Deal quindi queste sono delle sezioni speciali inserite da parte nostra USR sono delle sezioni speciali create dall'utente USR sta per USER quindi nel caso specifico del tubo quadro ad esempio andrò a inserire questo filtro quindi cominciamo con EXT trattino basso comune a tutti quanti i database le sezioni quelle cave si chiamano RHS vediamo che il filtro ha già filtrato la tabella Astor Profile e ha già filtrato le tabelle che corrispondono con quello che io ho cliccato sull'utilizza filtro nel nostro caso abbiamo RECTANGULAR cold quindi laminato a freddo warm laminato a caldo e vado a prendermi la sezione rettangolare o square la sezione quadrata nel mio caso vorrei andare a inserire un nuovo tubo nella sezione quadra laminata a caldo quindi clicco il W vado a prendermene magari una anche magari cliccando lo standard name andando a inserire dentro prendendone uno di una dimensione abbastanza simile quindi nel mio caso vado un 300x300x2 scusate un 30x300x300x3 quindi prenderò magari il 300x300x3 per esempio posso andare al tasto destro selezionare con il tasto destro tutta la riga fare copia vado all'ultimo seleziono tasto destro incolla a questo punto torniamo all'inizio vado a cambiare tutte le mie diciture quindi in questo caso chiamerò tubo 30x2 vado a cambiare le altre quindi in questo caso andiamo a dirgli 30x2 abbiamo lo standard riservato per quanto riguarda se è una tipologia standard o comunque se il profilo è sviluppabile o meno poi troverete tutto questo sulle FAQ pubblicate in internet owner text, siccome non siamo autors, non siamo writeag ma io devo andare sull'utente o ho inserito un nome all'interno di questo editor del proprietario di questo software oppure basta che io inserisca my company vado a inserire le mie dimensioni quindi un 30x30x2 abbiamo un raggio quindi io avrò un raggio interno e un raggio esterno in questo caso il raggio interno lo imposto a 3 e questo a 6 o comunque da database queste riuscite a a leggerle le colonne importanti ora portate pazienza ma non le conosco sono A quindi l'area in sezione U che è il perimetro esterno quindi da polilinea io vado a fare le proprietà della polilinea esterna vado a ricavarmi il valore del perimetro e G che è il peso al metro lineare ok gli altri dati riguardano appunto tutte le altre dimensioni ma vedete che molto spesso è 0 o è vuoto e la parte è dedicata a tutti i momenti di inerzia e questi dati qua se non potete svuotarli se non sono importanti o comunque andarveli a vedere sono un formulario vai all'ultimo e magari cambiate una tabella per memorizzare la sezione allora dicevamo EXT RHS per quanto riguarda le sezioni rettangolare o quadre cave dal momento in cui io dovessi andare i più frequenti sono flat che sono i profili piatti quindi è un profilo vedete che qua è tutto vuoto è tutto vuoto perché è una forma talmente semplice che Advanced Steel si arrangia a calcolare il perimetro il peso eccetera quindi flat RHS un altro potrebbe essere pipe quindi la parte dei dei tubi tondi piuttosto che EXT UPN ad esempio una sezione che mi viene mi viene in mente UPN section o altre sezioni note stessa cosa selezioni la parte in blu scuro tasto destro copia riga copia vai all'ultimo e incolla allora dalla versione 2018 non si utilizza più access ma si utilizza SQL studio quindi nel caso in cui voi dovete andare a creare di sana pianta un database quindi un proprio un nuovo catalogo EXT GRITECH che ne so avete bisogno di andare a creare questa è una il database è questo Astor Profile questa è una tabella quindi dovendo creare di sana pianta una nuova tabella avete bisogno di un editor un po' più avanzato oltre a fare la creazione della tabella dovete andarvi a modificare anche questo Profile Master Table dove è una una tabella diciamo come lo dice il nome Master che dà la gestione di questo di questa nuova tabella che abbiamo creato la tipologia di oggetto l'ordine con cui io lo vedo all'interno del programma eccetera appunto c'è una FAQ dedicata una ce ne saranno anche più di una sul sito Autodesk dedicata all'inserimento di questo di la gestione di questo di questi database quindi in questo caso io ho creato questo mio nuovo database posso andare a creare a ricaricare quindi carica i predefiniti e ricarica i database nel momento in cui io vado nel catalogo dei miei tubi laminati a caldo avrò un 30 e avrò il mio profilo bene grazie mille per l'attenzione grazie a tutti